Ciao ragazzi, oggi prepariamo il jam di strawberry in l'italiano, senza strumenti artificiali, solo con frutti, un po' di zucchero, ma ora vediamo l'intro. Per sicuramente necessitiamo di strumenti, useremo 1 kg di strumenti, avete visto che il mio è il frutti, ma se avete fatto il jam sarebbe perfetto, quindi non preoccupate, perché qui non è facile trovare il frutto, se troviamo il frutto è meglio. 200 g di zucchero, 1 lemon, useremo il jus più la pelle, ma solo la parte gialla, perché la parte bianca parte della pelle è buona. 1 half teaspoon di salto, perché aiuta a preservare il jam e anche a to remove a little bit of the sweetness that they have. And after, we will add also the apples, why the apples? Because in the skin of the apples you find the pectin, that helps us to thick our jam naturally and also to preserve our jam. Ok, so now we put the sugar, with the strawberry, the salt, the juice and everything we put on the fire. In there, we want to arrive. In there. We're gonna plant it here. In there, we're gonna plant it. I'm going to plant it here. So, I'll let, we throw it here. Okay, so I can add the and we'll plant it there. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So, in questo modo, you can check how will be the jam when will be cold and ready to eat it. Also, remember to remove the skin of the lemon and after we can put it in the jar. Grazie a tutti. So, our jam is ready. Now it's still very hot. We should wait at least 24 hours that become cold. So, tomorrow we will test it. See you tomorrow. So, let's go. Spectacular. Let's try it with the coffee. Very, very yummy. Ok guys, remember to subscribe to the channel, to leave me a like it and to watch all the other videos. If you like very sweet, you can double the sugar, but for me, with a bit of sugar is perfect, because the strawberry is already sweet. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.